Il Comune di Teramo ha avanzato richiesta di un contributo di 750 mila euro da prelevare tramite la raccolta dell'otto per mille e finalizzato alla realizzazione dell'intervento di conservazione e adeguamento sismico dell'edificio in cui assede l'Istituto Musicale Gaetano Braga, l'ex monastero di San Giovanni, sito in Piazza Verdi. È una scelta nuova, ha dichiarato l'assessore Eva Guardiani, nel tentativo di ridare vigore ad una istituzione storica della città. È un'opportunità che il Comune ha quest'anno di devolvere l'otto per mille che lo Stato comunque destina ai comuni a un progetto che non era finanziabile in maniera alternativa. Questa amministrazione ha pensato di devolvere queste somme per la ristrutturazione dell'immobile che ospita il Braga. Tutte quelle ale che sono state chiuse a seguito del terremoto quindi per il miglioramento sismico di questo edificio che ha una valenza sicuramente artistica e un'importanza strategica all'interno della città e soprattutto l'utilizzo che viene fatto dall'istituto Braga è sicuramente qualcosa da sostenere viste le difficoltà che ci sono state anche negli anni passati sia per i finanziamenti regionali e anche provinciali che continuavano a diminuire. Questo abbiamo pensato di finanziare questi lavori sperando di aver fatto cosa gradita. È un progetto da 750 mila euro, adesso vediamo se i finanziamenti che arriveranno relativi all'otto per mille raggiungono quella cifra, però è importante che siano destinati a questo tipo di ristrutturazione.